Quarantesima puntata di Wisp Magazine, benvenuti come ogni settimana, immagini suggestive, vedremo tra poco grazie a Valentina Sonzini che è con noi responsabile della Vela Wisp. Buona giornata a tutti e diamo il benvenuto a Paola Monticelli che qua non è mai stata responsabile di Emergency Liguria, quindi una bella responsabilità e un bel impegno. Allora perché abbiamo Paola Monticelli e Valentina? Perché c'è un'iniziativa comune? Esattamente, la sesta edizione della veleggiata per Emergency è un po' il must della nostra Lega Vela del Comitato di Genova, un evento senz'altro molto atteso dalle nostre associazioni di vele e dai nostri soci e che si riconferma quest'anno in una giornata assolutamente di festa cittadina. Infatti si terrà il 24 giugno, martedì prossimo. La partenza come di consueto è intorno alle ore 10 con ritrovo alle 9 al Vigo, quindi siamo in zona diciamo Mandraccio. Faremo salire i nostri equipaggi sulle imbarcazioni messe a disposizione dalle nostre associazioni e quindi salperemo alla volta di Pieve Ligure. Una giornata assolutamente di svago, di allegria, ovviamente all'insegna della solidarietà, perché ancora una volta si consolida questo rapporto che abbiamo ormai da anni con Emergency. Devo dire che questo è senz'altro il momento di punta della nostra Lega Vela del Comitato di Genova, ma anche gli altri comitati Liguri stanno lavorando a pieno ultimamente per dare respiro ulteriore alla nostra Lega Vela. E credo davvero che torneremo poi in settembre-ottobre a parlarvi di altre iniziative che stiamo organizzando sia sul Levante sia sul Ponente della Regione. Quindi insomma è una Lega Vela in movimento. Fra l'altro, grazie, mi piace ricordare che quest'anno per la prima volta parte un centro estivo di vela, quindi dedicato ai più piccolini, proprio da una nostra nuova associazione di vela che in zona Porto Antico riempirà di vela e di mare le giornate di questi bambini. Avrà grande successo. Vediamo sempre queste belle immagini e ricordiamo che il 2014, Paolo, è un anno importante per voi. Molto importante per Emergency perché compiamo 20 anni, che insomma siamo un'associazione molto piccola, molto giovane, però abbiamo fatto tantissime cose in questi 20 anni. Abbiamo costruito 16 ospedali, abbiamo una quarantina di posti di primo soccorso, abbiamo curato circa 6 milioni di persone un po' in giro per il mondo, dall'Afghanistan all'Ira, Cala Cambogia, all'Africa, Sierra Leone, Sudan, in tantissimi posti cercando di portare una sanità giusta che rispondesse a quello che è semplicemente un diritto delle persone di essere curati e di star bene in ogni situazione. Stiamo lavorando purtroppo, ahimè, invece di smettere di lavorare all'estero, stiamo cominciando di lavorare anche in Italia perché piano piano molti diritti anche per gli italiani stanno cominciando a venire erosi dalla crisi, dalla situazione, da tante cose, per cui ci troviamo a dover aprire dei poliambulatori anche in Italia. Queste belle immagini che vediamo sono immagini del vostro spot, poi andremo anche sul vostro sito, sempre aggiornatissimo, tanto siete in collaborazione con il Suc, con il sedicesimo Suc Festival. Sì, da quando è nato il Suc supporta Emergency, siamo sempre stati loro ospiti, siamo felicissimi, noi abbiamo un gran bisogno di persone che ci diano una mano, come la WISP, come il Suc, perché chiaramente tutti i nostri ospedali vengono sostenuti semplicemente dalle persone che ci seguono, che ci conoscono e che ci finanziano e quindi tutte queste iniziative sono per noi assolutamente fondamentali. Ogni due minuti curiamo una persona da vent'anni. Allora, torneremo a questi temi, ora torniamo da Valentina, andiamo sul nostro portale dove avete caricato una notizia della cerimonia pubblica al futuro, suona gli erzelli, sport per tutti e musica per inaugurare la nuova strada. Esattamente, sabato sera, sabato 21, anche la WISP in questo importante momento per il municipio Seiponente, fra l'altro un municipio con il quale noi collaboriamo ormai già da tempo per i progetti di Save the Children e quindi ci è piaciuto e ci è sembrato necessario essenziale esserci in questa serata. Una serata importante perché? Perché viene inaugurata una strada che è quella di collegamento tra la collina degli Erzelli, quindi tra il nuovo parco scientifico e la città stessa. È un avvenimento questo che è stato patrocinato dalla regione Liguria e dal comune di Genova, Genova Aitec. Cosa c'entra la WISP con questa inaugurazione? Noi saremo presenti con una nostra associazione che è il laboratorio Odradec che a partire dalle 18.30, quindi appena dopo il taglio del nastro di inaugurazione, animerà la piazza della festa serale, festa che fra l'altro si protrarrà fino oltre le 21.30 con presenza di artisti vari e di musicisti. L'aboratorio Odradec è una nostra associazione che io amo definire come frizzante perché è costituita da ragazzi molto giovani, sono degli artisti di strada che faranno dei laboratori di giocoleria destinati sia ai più piccoli che ai giovani che agli adulti, quindi un bel modo davvero per inaugurare questo momento così importante per il municipio Seiponente. E naturalmente non mancherà lo spazio fitness che va per la maggiora, c'è la Zumba anche e io sono sempre curiosissima. In effetti questi spazi anche dedicati al fitness che diventa un po' spettacolo sono certamente importanti e insomma una giornata per l'inaugurazione, l'apertura della nuova strada con l'UISP che non fa mancare la propria partecipazione. Torniamo a Paola Monticelli e continuiamo a parlare delle iniziative, delle collaborazioni Emergency, UISP e anche SUC a Genova. Possiamo vedere la home page proprio del sito del SUC. Ricordiamo anche che avete un infopoint, quindi chi vuole informazioni può venire a chiedere voi. Sì, dall'anno scorso abbiamo aperto nel sottopassaggio di De Ferrari dalla metropolitana un piccolo infopoint che è aperto tutti i giorni dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19 per cui venite a chiedere informazioni sui nostri progetti, a conoscere Emergency. Se volete venire a darci una mano come volontari abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci aiuti. Vi aspettiamo, ci sono tutti i nostri filmati, si possono vedere i nostri ospedali dal vivo o quasi dal vivo. Anche perché ci sono sempre nuovi progetti, ora stavo scorrendo sul vostro sito per esempio questo nuovo progetto Outreach a Port Sudan. Sì, abbiamo dei centri pediatrici, abbiamo costruito un grande ospedale di cardiochirurgia in Sudan e intorno a questo nei paesi confinati stiamo costruendo tanti piccoli centri pediatrici per dare sanità di eccellenza e sanità di base contemporaneamente. Quindi il vostro sito dà tutte le informazioni ma c'è anche la possibilità di averle direttamente da noi, sedendoci davanti a noi che è sempre la cosa migliore. Perché non a tutti poi piace questo tipo di mediazione e invece quando ci si vede e si parla direttamente magari nascono anche ulteriori curiosità e possibilità. Torniamo a vedere le immagini ancora della veleggiata, poi andremo a quanto riguarda il Succo perché lui spiega con il Succo grandi collaborazioni e iniziative. Le immagini sono talmente belle che non possiamo che vederle tutte. Sì, no, fra l'altro l'importanza di questo ventennale di emergency si concretizzerà il 24 sera al rientro della veleggiata con il taglio della torta dei vent'anni. Quindi insomma abbiamo voluto chiudere il Succo e chiudere le celebrazioni di emergency appunto proponendo agli equipaggi e a tutti coloro che vorranno essere dei nostri ovviamente presso la zona del Succo al taglio della torta intorno alle 18.30 direi insomma. Per cui la veleggiata chiude la giornata di solidarietà ma in realtà poi premeremo gli equipaggi rimasti sopravvissuti alla giornata di vele e di mare con una fetta di torta insomma a ricordo. 24 giugno ricordiamo il giorno di San Giovanni quindi è la festa del patrono di Genova e l'appuntamento vostro WISP Emergency, protagonisti per il sesto anno consecutivo di questa veleggiata solidale. Dicevamo intanto siamo sul vostro portale e anche per quanto riguarda WISP portale sempre aggiornatissimo, hai fatto riferimento alla vela possibile per l'estate e per i bambini ma parliamo anche delle tavole rotonde al Succo, ce n'è una lunedì 23 giugno. Esatto, abbiamo iniziato l'11 maggio una collaborazione con il Succo con un'anteprima è stata una camminata contro il razzismo che ci ha visti i protagonisti insieme alla compagnia del Succo che ha animato questa passeggiata per le vie del centro storico che è stata molto bella e anche molto coinvolgente perché era animata da canti, danze, letture e a seguire questa passeggiata abbiamo deciso di collaborare in maniera ancora più intensa con il Succo e non solo propionendo la chiusura della veleggiata il 24 proprio al Succo ma il 23 con due momenti. Intanto alle ore 19 una tavola rotonda che vede protagonisti sia Matteo Rossi che è l'assessore regionale allo sport che Tiziano Pesce che è il nostro presidente della WISP Liguria e rappresentanti sia del Genoa che della Sampdoria che parleranno davvero dello sport contro il razzismo. Un impegno questo che per WISP negli ultimi anni è diventato essenziale, abbiamo diversi progetti, diverse iniziative tra cui cartellino rosso al razzismo che stanno ribadendo davvero la necessità di uno sport non solo per tutti ma anche uno sport che diventi convivialità, condivisione e soprattutto inclusione sociale. Alle 19.30 invece è un momento un po' più di festa, la Lega Danza WISP in un'iniziativa che abbiamo voluto chiamare Colori, Ritmi e Profumi in Danza darà l'opportunità ai danzatori e ai ballerini che si esibiscono in danze tradizionali e folcloristiche di trovare il loro spazio proprio al Succo. Avremo circa un'ora e mezza a partire dalle 19.30 organizzate dalla Lega Danza WISP che è coordinata da Elisa Profumo, queste nostre scuole di danza si alterneranno sul palco del Succo proponendo il samba, proponendo la danza orientale, la danza africana, avremo danza del ventre, insomma un momento assolutamente colorato e coinvolgente che trova davvero nella cornice del Succo il momento migliore per esplicitarci anche perché queste sono danze che negli ultimi anni stanno raccogliendo sempre più consensi soprattutto da parte delle persone più adulte che giustamente intendono mantenersi in forma ma facendola anche in maniera ludica e poi sono talmente così coinvolgenti che davvero trovare degli spazi adeguati come la cornice del Succo non è così facile per cui mentre durante l'anno abbiamo una serie di iniziative rivolte alla danza classica moderna e contemporanea per queste danze tradizionali diventa un pochettino più difficoltosa e quindi la proposta del Succo l'abbiamo colta immediatamente e credo davvero che sarà un bel momento di partecipazione quindi invito ovviamente tutti a essere presenti alla tavola rotonda ma poi anche a questo momento di allegria e di festa. Prima di andare ancora sul vostro portale perché correre insieme per esempio che la partita da Genova che è sempre un po' città pilota ora passa per Bologna vedremo tutte le manifestazioni previste nei prossimi giorni dell'UISP ma torniamo ancora sul portale di Emergency prima di salutare anche Paola Monticelli il vostro impegno l'abbiamo documentato nelle immagini avete bisogno anche di chi vi dia una mano quindi molto molto leggevo pediatri edici infermieri certamente credo che anche per i giovani che non avranno che nell'esperienza ma hanno sempre dalla loro l'entusiasmo posso essere per gli specializzanti anche per noi è molto importante avere persone che ci aiutino da tutti i punti di vista naturalmente in bocca al lupo perché è un bel lavoro e torniamo prima di chiudere al portale UISP Genova allora vediamo correre insieme poi sono tutte le finale nazionali ci sono state iniziano i campionati estivi per quanto riguarda il calcio abbiamo chiuso la stagione diciamo invernale del calcio della pallavolo abbiamo iniziato i centri estivi che ricordo perché sono un nostro impegno veramente molto forte del comitato chi volesse avere informazioni non solo consulti il nostro portale ma chiami anche presso i nostri uffici c'è sempre la possibilità di iscriversi perché abbiamo a disposizione numerosi operatori e quindi la consueta ospitalità UISP poi si esprime anche nei centri estivi per cui c'è ancora posto per chi desiderasse iscriversi grazie molto Valentina Sorzini grazie a te Maria grazie grazie ancora Paola Monticelli grazie a voi per l'attenzione e l'appuntamento UNISP Magazine la prossima settimana